Eh sì ragazzi, eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, è SIG Parade, è SIG Parade, è SIG Parade Allora, allora, adesso riprende il calciomercato anche Di Marcio ha ripreso a lanciare scorreggie e notizie insieme ogni giorno e quindi oggi e ogni giorno vorrei presentarvi il conto delle news di calciomercato per accompagnarvi in questo inverno ma prima di iniziare vi chiedo qua sotto una marea di mi piace, regà, se sotto questo video arriviamo, allora domani esce un altro video ma se arriviamo a 4.000 mi piace, anche se arriviamo a 4.000 mi piace tra un minuto, tra un minuto arriviamo a 4.000 mi piace io tra 4.000 mi piace tra un minuto vi porto un altro episodio perché ogni secondo qui ci sono notizie grosse, belle di cui parlare e quindi eccoci nella SIG Parade, posizione numero 10 per Martinelli vi ricordate che si era fortemente parlato del fatto che Gabriel Martinelli potesse finire al Barcellona? diciamocelo chiaramente, pensare a Gabriel Martinelli viene semplice nell'affiancarlo al Barcellona è un po' quel profilo lì, Gabriel Martinelli è un profilo da Barcellona, eppure non andrà al Barcellona se ne era parlato fortemente ma alla fine pare che il calciatore inglese, anzi brasiliano, perché Martinelli è brasiliano scusatemi non è inglese, pare abbia deciso di rinnovare il contratto, pare senza pare, rinnoverà con l'Arsenal fino al 2027 ne parla Sport, quindi tutte le notizie che si erano sentite di un Martinelli al Barcellona verranno ufficialmente accantonate posizione numero 9 per una notizia fresca, 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 perché Liverani ha lasciato il Cagliari il Cagliari ha esonerato Liverani, ha deciso di esonerarlo, così come il vice allenatore Cesare Bovo i collaboratori tecnici e il match analyst e tutti quanti ma la cosa figa, ma questa è veramente veramente figa, è che sembra che al posto di Liverani il Cagliari abbia un po' sondato per provare a prendere Claudio Ranieri, ora io fossi Ranieri non c'è Andrea il Cagliari in B, vi dico la verità lui è un allenatore che adesso per me è già da Serie A, cioè lui è un allenatore che è già pronto già pronto, già adatto, è ancora adatto ad allenare in una grande palcoscenico di Serie A e quando ha avuto la Samp lui ha sempre fatto grandi cose, l'ultima avventura in Serie A quindi pensare che debba andare in B, la domanda che mi sono riusciti spontanea è perché? però comunque attenzione a questa vista perché con Ranieri in palchina per me il Cagliari tornerebbe immediatamente su posizione numero 8 per il Napoli che avrebbe messo nel mirino un calciatore ne parla todofijajes.com e cioè il trentenne trequartista Isco del Real Madrid anzi in realtà ex Real Madrid perché adesso gioca al Siviglia ma andrà via dal Siviglia e allora questo portale, questo sito ha dato i nomi delle squadre che potrebbero essere interessate al calciatore e pare che il Napoli abbia esplicitamente chiesto informazioni pare inoltre che secondo AS il giocatore avrebbe ottenuto l'accordo per la recessione consensuale e quindi si libererebbe a parametro 0 e a gennaio sarebbe libero di firmare con chiunque il Napoli che ha già preso Beresischi di cui ho già parlato e che ve lo lascio qui in alto nelle schede insomma sarebbe disposto a provare a trattare con il giocatore per portarselo a Napoli Isco sarebbe un po' il calciatore di fantasia che al Napoli potrebbe fare molto molto comodo alla posizione numero 7 la Roma la Roma perderà Karsdorp, sono stufo di parlare di Karsdorp in tutti i miei video e allora ecco che iniziano a girare dei nomi per il post Karsdorp lo Scottish Sun, quindi il Sun scozzese sostanzialmente inizia a fare qualche nome e fa un nome che a me interesserebbe tanto cioè Josip Juranovic che abbiamo già visto al Mondiale e che a me sinceramente come tersini intrigherebbe poi se Murigno lo chiede a mio avviso sarebbe importante fare un passo in avanti verso il calciatore poi da qui a dire che verrà a Roma è tosta tra l'altro quando lo Scottish Sun parla della possibilità di vederlo a Roma parla anche del Torino che lo vuole parla anche delle Spagnole, parla anche dell'Atletico Madrid quindi c'è una lunga lista di squadre che sarebbero su Juranovic e lui dovrà fare delle scelte a parte bisogna vedere chi affonderà il colpo ma poi lui dovrà fare delle scelte in base anche alla carriera che vuole provare a fare perché sicuramente a Roma sarebbe già un passino superiore a Torino ed Espagnolo anche se poi a Torino ed Espagnolo giocherebbe con più continuità probabilmente e all'Atletico Madrid farebbe ancora un salto più in avanti ma bisognerà capire se ci sarà spazio per lui al sesto posto il Milan il Milan vorrebbe anticipare la mossa portiere infatti vi avevo già detto come pare che il Milan avesse le mani su Sportiello l'Atalanta avrebbe tranquillamente lasciato andare avrebbe tranquillamente fatto partire Sportiello e quindi il Milan lo voleva per giugno che succede? che adesso il Milan pari abbia fatto un passetto in avanti e abbia detto io lo voglio per adesso perché? perché Maignan non dà certezze nel senso tecnicamente è una delle certezze più grandi del mondo non dà certezze perché l'infortunio di Maignan preoccupa e non poco e allora giustamente il Milan avrebbe provato a prenderlo subito ma l'Atalanta pare che faccia muro e quindi al momento non si sa però il discorso relativo a Sportiello si potrebbe complicare e non poco ovviamente se lasciate 4.000 mi piace adesso in questo momento subito nuova scarica di notizie Sic Parade posizione numero 5 per la Lazio che vuole assolutamente Parisi Sarri vuole Parisi Sarri pare abbia chiesto Parisi ne parla il messaggero dice però che la Lazio molto probabilmente a gennaio sarà bloccata non farà acquisti lo titolo lo sapete no lui già di base non spende molto la scorsa è stata spesa l'ira di Dio quindi pensare che faccia ancora acquisti a gennaio è molto molto difficile ed è complicata anche la pista legata a Luca Pellegrini che volevano prendere in prestito l'obiettivo resta comunque quello legato a Parisi che Sarri continua a chiederlo Sarri l'avrebbe individuato per me se la Lazio dovesse riuscire a prendere Parisi a mio avviso farebbe un colpaccio ma veramente un colpaccio però dall'altra parte ci tengo anche a dire che è probabilmente un affare di quelli che si potrebbe fare a giugno con grande tranquillità con l'Empoli già salvo pensare di farlo a gennaio è quasi utopico proprio per il discorso che l'Otito a gennaio non vuole spendere anche perché ha speso tanto già in estate posizione numero 4 addirittura per un'indiscrezione che è un rinnovo ma sarebbe clamorosa cioè pare che visto che Di Maria adesso tornerà a Torino visto che Di Maria tornerà a Torino da campione del mondo e visto che la Juventus ancora deve vederlo praticamente il vero Di Maria ma che se lo godrà per 3 o 4 mesi pare che la Juventus voglia provare a convincerlo a rimanere un'altra stagione ora è difficile perché lui aveva sempre detto io voglio arrivare solo al mondiale al top quello che succede poi posso prendere e tornarmelo in Argentina è vero anche però che all'aver vinto il mondiale potrebbe anche dargli ulteriori stimoli ora la Juventus pare che già da quando tornerà a Torino dopo i festeggiamenti e tutto quanto vorrebbe provare a convincerlo a rinnovare il suo contratto non sappiamo se effettivamente questa cosa riuscirà però già il fatto che ci sarà il tentativo per me è un indizio devo dire inoltre che la situazione di Maria io l'ho detto per me di Maria l'avevo detto alla Juventus sarebbe fatto male proprio perché non c'era con la testa voleva vincere il mondiale ha vinto il mondiale e alla Juventus finora ha fatto male invece ci ha fatto male è sempre stato rotto inesistente quando ha giocato insomma non è che ha brillato tantissimo ora lo aspetto una seconda parte di stagione vedremo come andrà però se dovesse rinnovare per un altro anno allora lì secondo me potrebbe anche svoltare perché finalmente si focalizzerebbe sulla Juventus se invece dovesse decidere di non rinnovare allora la sua testa secondo me sarà già bella che in Argentina andiamo sul podio alla posizione numero 3 la Fiorentina torna alla carica per cercare un attaccante un qualunque attaccante non è soddisfatta non è contetta dei propri attaccanti e allora cerca un attaccante qualunque il nome di questo attaccante al momento cioè uno dei tanti che sono stati testati è quello di Andrea Belotti pare che la Fiorentina abbia contattato la Roma o comunque voglia contattare la Roma per provare a prenderlo in prestito con diritto di riscatto e qual è il problema? il problema è che anzi la cosa positiva è che Mourinho potrebbe anche accettare perché prestito con diritto vorrebbe dire comunque avere la possibilità di monetizzare un giocatore che è da parametro zero e alla Roma non è che stia facendo benissimo la Roma ha preso anche sul bucket però ne parla la Nazione la Nazione ha un giornale fiorentino quindi è normale che strizzi un pochino l'occhio alle possibilità che abbia la Fiorentina comunque lo valuteremo nei prossimi SIG Parade alla posizione numero 2 abbiamo l'Inter che si sarebbe interessata a un difensore ovvero Scalvini l'Inter fa davvero sul serio per Giorgio Scalvini avrebbero già incontrato l'enturaci del giocatore starebbero cercando di capire quale prezzo sarebbe il più adatto per provare a prenderlo l'Atalanta chiede 40 milioni di euro l'Inter ovviamente ci mette dentro 5 o 6 milioni di giovani per provare tra l'altro ha provato a metri centro Fabian Giovanni Fabian che è alla regina e che viene addirittura valutato 14 milioni di euro e l'Inter ha provato a abbassare il prezzo così all'Atalanta lo sapete i giovani interessano quindi avere la possibilità di poter prendere un calciatore di questo tipo per l'Atalanta è solo una cosa positiva però comunque Scalvini lo valutano 40 milioni quindi vedremo se l'Atalanta sarà disposta ad abbassare il prezzo per perdere un calciatore comunque ancora acerbo però a mio avviso di futuro certo e alla posizione numero 1 c'è ancora l'Inter perché per un'altra voce infatti sembra che l'Inter stia cercando il futuro Andanovic e qualcuno dirà ma non c'è Onana? sì ma l'Inter comunque vorrà finire Onana ed avere anche un altro portiere li stanno quindi cercando cioè sondando tra i nomi per il vice Onana e quello che sarà il futuro Andanovic o comunque Onana sarà il futuro Andanovic ci sarà un vice Onana che sarà il futuro Onana che sarà il futuro Andanovic insomma avete capito ci sono tre nomi uno di esperienza certa come Neto Norberto Neto che c'è stato in Serie A con la Fiorentina con la Juventus e che potrebbe tranquillamente tornare per fare il secondo all'Inter un altro con un'altra grande esperienza è Sommer lo svizzero Sommer che però secondo me potrebbe tranquillamente ambire una porta da titolare in un grande club quindi pensare che debba andare all'Inter per chiudere la carriera in panchina non lo so non mi torna ecco forse Neto forse Neto di più il terzo nome è Agustin Rossi del Boca Junior per me tra quattro anni Rossi lo vedremo non so se titolare ma comunque nel giro della nazionale dell'Argentina quindi per me non vuole andare a fare panchina all'Inter se l'Inter lo prende e gli promette lo farà giocare titolare allora è un conto ma pensare che possa andare all'Inter a fare il panchinaro di Onana perché quello farebbe sinceramente mi risulta difficile proprio per questo vi dico forse l'indiziato maggiore di quei tra questi è proprio Neto eh sì ragazzi eh sì eh sì eh sì eh sì ecco Parade ecco Parade fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale io vi ringrazio tantissimo mi piace e voi ce la vedete come sempre ci vediamo al prossimo video ciao